Allora ragazzi, detto che abbiamo raggiunto nell'ultimo video, non è vero, nel penultimo video, i 15 like come richiesto li abbiamo anche superati Oggi ho caricato appunto i video di geometri dash e niente, bella Salve a tutti ragazzi, sono Gianmiki Guazzoli, ci vediamo in questo nuovissimo video di geometri dash, questo nuovissimo gioco sclerotico Aspetta che prendo la sedia arangione, io voglio giocare, ah è un livello quello Allora, prendiamo la sedia arangione a portata di mano Allora io non ci ho mai saputo giocare, ok? Mai nell'esistenza, mai saputo giocare a questo gioco Mungolo, ebbè almeno qualcosa la capisco L'ho detto eh Porca miseria Figo Ecco cacchio Vai Olè 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 Ah quando sono forte Quando sono forte, quando sono bello Oddio Mamma mia Porco Vai lasciamo stare Vai E che cacchio Porca Madonna mia, madonna mia, madonna come sclero ma Cazzo Mamma mia quando sono forte Oddio Da Io intanto devo pure controllare se registra perché E' a buono, sono quante volte che devo non fare un video, cioè lo devo rifare poi Oh oh Sì va bene, che è sta cosa Che miseria A finire un livello è impossibile La serie finisce se finisco un livello Perché veramente Eh 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 Oh Cristo redetto Allora se muoio anche adesso voglio il colmo No Mamma mia sbutto la sedia, voglio lo giuro Lo giuro, lo giuro Madonna se muoio Oddio però ci sto andando Oddio è indisturbato Oddio 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 ma non mi sento male Mi sento Mario Bros Oddio Mario Bros Mario Bros che non finisce mai Oddio Ma non so forte So fortissimo Sè Sè E dai E dai no E dai Come faccio ad andare avanti adesso Che cosa c'è solo ricomincio No eh Uh Grazie Vai a lungi credo raga 10 like solo perché Che era la cosa quel salto flashato Dai porca Zuzzusa Dai ma un salto Ok Eh 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 E' come prima praticamente Ma io Mi sono andato Ah ho saltato Vabbè Vai Bello Bello gu Ma dai Ma io Io ho paura di morire Perché io se non voglio andare là sopra E qua io se non ho saltato Dai Dai no No Ma perché Continuo a saltare E insomma Cominciare da solo Questo è l'odio di geometri dash Oh Non devo saltare Poi devo saltare Poi devo saltare Poi devo Non ho saltato Ah Aio Ah rega mi sono ucciso Rega mi sono ucciso Rega stoppate questo gioco Mi sono fatto malissimo Aio 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 Mi sono fatto male Allora Allora È impossibile come gioco Io ci sto Io l'ho scaricato per intrattenervi Ma non per morire me Per morire io Papà E' niente Come niente Eh sto sul letto che gioco Oh Gioca gioco Ah Col tablet Si no gioco Gioca gioco E' niente Perché mia nonna Ha letto con la mente Ok Ok Ciao Ciao Che ca Fermo Vabbè allora Questo video è tutto Non è stato Molto bello Per me Quindi E' niente Mi commenti scrivete Se devo continuare Questa serie O qualche altro gioco Ovviamente Sclerotico Perché se no Non va a termine Comunque Rega Ho deciso Devo registrare Di mattina Perché Non è cosa E E niente Allora Lasciamo 5 Milioni No Vabbè 5 mi piace E Boh Scrivete Mi raccomando Qualche altro gioco Idiota E sclerotico Perché se no È sclerotico Io non lo faccio È horror Soprattutto Perché ci devono scandare A morte tutti Quando Quindi Per qualche gioco Proprio di quelli Che muori Per l'impatto Va bene Lo stesso E allora Niente Ci vediamo al prossimo video Soprattutto Grazie a tutti.